Le indicazioni del trattamento laser endocannolare delle fistole perenari sono molte, soprattutto sono quelle indirizzate al rispetto dell'apparato sfinteriale e alla possibilità di chiudere la fistola senza un'accisione ampia come nel trattamento tradizionale che richiede un tempo di guarigione molto lungo, medicazioni, una certa disconforte del paziente. Il trattamento laser endocannolare riesce a chiudere con l'utilizzo di un laser 1470 nanometri indiodico, viene da tramite fistoloso partendo dal miato interno e chiudendolo durante tutto il suo percorso fino al miato esterno. Il tempo di trattamento è relativamente breve perché si parla dell'ordine di alcuni minuti di intervento, va fatto in anestesia spinale o generale e il paziente ha un decorso estremamente lineare, estremamente semplice, senza dolore, senza necessità di medicazioni e può riprendere la propria attività lavorativa nell'arco di cui si diceva.